Oggi faccio l'occasione di salutarvi a tutti i miei parenti, soprattutto la nonna, zia Mimma, zio Pietro, zia Mariella, zio Enzo, Pasqualina, Gianni e Alessandro. Mi voglio tanto bene e sappiate che io in tutta la mia vita non ho fatto che volervi bene. Mary, tu sei mia sorella, io ti voglio bene, tu lo sai, non mi trattare male, io non ti tratterò male. Vabbè, ora mi metto a giocare al computer e vi saluto a tutti. Buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti. No, 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 no.